Che succede? Perché sei così irritabile? Perché sei così nervosetta? Da lei me lo lascio fare il bagnetto e me ne frego di mia madre che guarda. Sì? Ti va tesoro? Senti, falle mangiare una banana. Non è interattivo, Todd. Ah, ecco. Ecco qua. Aspetta che... Ehi, piccolo, che cosa guardate? La partita. Già, bella partita, vero? Sì, vero, ragazzi. Il campionato non è già finito? Tutti i maschi nella stanza si sentirono in perfetta armonia, dando origine al più raro dei fenomeni. La bugia a macio collettiva senza sbavature. Quello americano, forse. Noi guardiamo quello messicano. È cominciato il ritardo. Per i venditori di burritos. Erano tutti in sciopero e non lasciavano passare le squadre. Dopo i primi scontri violenti hanno chiesto a Rodrigo Vasquez, il proprietario di Baja Bandidos, di intervenire. Il signor Vasquez tratta abitualmente coi sindacalisti messicani, ed è quindi riuscito a mediare un accordo e ha salvato il campionato in estremi. Ed ecco perché guardiamo la partita in primavera. Se lo dite voi. E poi Turk ha noi in modo quasi impercettibile. Un segnale universale che significa ben fatto, uomini. Non lo scoprirà mai. Turk, ma che cavolo?